Salgono a 107 i pazienti Covid-19 in cura al Morelli, un peggioramento nel numero dei ricoverati che era però ampiamente atteso, mentre la media giornaliera dei ricoveri scende da 20 a 10 e il saldo fra ricoveri e dimissioni rimane negativo. Nei 107 rientrano sia i pazienti affetti da Covid-19, molti in condizioni serie, ma anche coloro i quali sono in cura per altre patologie e sono risultati positivi. Alcuni di questi ultimi non sono ricoverati nei reparti Covid-19 del Morelli, bensì negli altri presidi di Sondrio, Chiavenna e Morbegno. Si susseguono anche i ricoveri dei bambini positivi, anche molto piccoli, che vengono trattenuti in osservazione nella pediatria di Sondrio pur con sintomi lievi. L'auspicio è che rallenti ulteriormente il ritmo dei ricoveri, sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito. Il nostro personale sta svolgendo un lavoro straordinario per le cure agli ammalati e alti standard per la campagna vaccinale e i tamponi. Con grande senso di responsabilità, i nostri dipendenti hanno accettato spostamenti e nuove mansioni. Ci aspettiamo che i cittadini si comportino allo stesso modo, sottoponendosi al vaccino e adottando le misure di sicurezza per contenere la diffusione del contagio.